Sono terminati i lavori di restauro alla Porta dei Mariani, uno dei monumenti storici di Alto Pascio. L'intervento, sostenuto dall'amministrazione comunale, ha permesso di mettere in sicurezza l'edificio, luogo simbolo del territorio lasciato per molti anni in uno stato di incuria e di abbandono. Il restauro della Porta Storica rientra nel piano di restauro complessivo, ristrutturazione e rinascita del patrimonio storico-artistico altopascese, a partire dalle mura castellane, il parco che le circonda, il monumento dei silos dei Granai e quindi di conseguenza le piazze storiche. Per l'altra Porta Storica, invece, Porta dei Vettori, l'amministrazione comunale ha partecipato ad un bando ministeriale, essendo l'intervento molto più complesso e più oneroso.